Noi adesso, chi è il sostegno? Questo qua era una delle torne. Noi stiamo all'interno della torre. Immaginiamo la facciata arrivata in piedi. Da qui si attiva la torre. Deve essere veramente imponente. Addirittura quando andremo a vedere quella facciata principale, dobbiamo pensare alla facciata moltiplicata di due con l'aggiunta della torre. Quindi dovrebbe essere veramente grande per essere ad avviate grande. E' veramente importante. Come anche questo tipo nell'aggiunta della torre. E anche qui possiamo usare il cerchio di traccia a tutto con i lacerni affrettati.